Solo pochi giorni fa il commissario straordinario dell'ex provincia di Ragusa, Dario Cartabellotta, ha deliberato l'atto politico-amministrativo per confermare per il nuovo anno scolastico la formula dell'accreditamento per l'erogazione dei servizi integrati di assistenza e trasporto in favore degli alunni affetti da disabilità sensoriale e frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore, nonché di predisporre la formazione dell'albo provinciale per l'erogazione dei servizi socioassistenziali per il triennio 2016-2019, con procedura di evidenza pubblica per consentire l'inserimento di quanti più operatori possibili. Un atto formale che farebbe ben sperare le famiglie e i lavoratori, che in realtà è senza sostanza. Non c'è infatti ancora nessuna certezza della copertura finanziaria in attesa di conoscere l'entità dei trasferimenti regionali. Già lo scorso anno, una buona parte dell'anno scolastico, i ragazzi con disabilità sono stati costretti a restare spesso a casa, anche per lunghi periodi, perché i servizi non erano garantiti e fondi arrivavano a singhiozzo. Ora, per il prossimo anno, il libero consorcio ha già fatto sapere che non c'è nessun fondo disponibile e che la copertura deve arrivare da Palermo, così come tutta una serie di altri fondamentali servizi, senza copertura dato che il libero consorcio è sull'orlo della bancarotta e non sono nemmeno in arrivo dei soldi. Solo il deputato Orazio Ragusa, nel corso dell'ultima seduta all'Arsa, ha sollevato la questione, definendo assurda tutta questa situazione. Ragusa ha sottolineato come si stia perpetrando un vero e proprio scippo agli enti territoriali dell'isola. Di certo urge una soluzione, perché a breve le casse già esigue dell'ex provincia saranno totalmente vuote.